ripugna come mi devo comportare se una persona o una situazione mi ripugnano commento devi sempre evitare di fermarti sui mali sui difetti sulle parti negative delle vite per non farti contaminare ed attrarre da essi non parlarne neppure taci sempre se puoi quando ti trovi dinanzi a ciò che ti ripugna